I disordini della giostra del Saracino di settembre avranno conseguenze disciplinari che potrebbero essere pesanti. Sono infatti arrivate le incolpazioni. Nel merino della magistratura sono così finiti i rettori, capitani e maestri d'arme dei due quartieri raggiunti dalle notifiche dopo la relazione del maestro di campo Fernando Arisandrelli, porta a Crucifere e porta a Santa Andrea. Per il quartiere biancoverde sono finiti nel merino della magistratura il rettore Maurizio Carboni, il capitano Mauro Dionige e il maestro d'arme Saverio Crestini oltre che un figurante espulso dal maestro di campo durante le carriere. A Santa Andrea si incontesta soprattutto il disturbo della carriera poi ripetuta di Elia Cicerchia. Tra gli incolpati di Colcitrone invece il rettore Andrea Fazzuoli, il capitano Rodolfo Raffaelli e il maestro d'arme Roberto Bacci. In questo caso si fa riferimento all'episodio avvenuto subito dopo la carriera di spareggio di Lorenzo Vanneschi, poi finito sul 2, quando i figuranti rossoverdi presero d'assalto il maestro di campo e il suo palafreniere. Inoltre Porta del Foro, che ha invaso la lizza e protestato con Lisandrelli per la ripetizione della carriera di Elia Cicerchia, paga con un solo figurante a rischio squalifica. Si salva infine solamente il quartiere vincitore della lancia d'oro, porta a Santo Spirito, che non ha pendenze.